Oggi andiamo a vedere insieme quali sono i migliori metodi per speedboostare su fc24 Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube Oggi come di consueto appuntamento con il tutorial sugli speedboost Per cui andiamo a vedere insieme quali sono i metodi migliori per poter prendere velocità su fc24 E soprattutto quando andare ad applicare un determinato metodo rispetto ad un altro Già vi preavviso che anche questo video ve lo divido per capitoli perché ad ogni speedboost coincide un determinato accorgimento da prendere per poterlo mettere in pratica Partiamo da quello che secondo me è lo speedboost più semplice in assoluto su fc24 Però per poterlo performare al meglio dobbiamo tenere una determinata impostazione all'interno delle impostazioni di gioco Per cui andiamo qua nella prima sezione e dobbiamo scendere fino a quando non troviamo la voce delle preferenze del controller E in particolare al suo interno troveremo quella che ci interessa a noi ovvero lo scatto analogico Che va messo assolutamente su no Per quale motivo? Lo scatto analogico ci dice Ci permette di controllare la velocità negli scatti Più tengo premuto R1 e R2 in base a come corriamo più il giocatore correrà veloce Questo vuol dire che praticamente il nostro giocatore raggiungerà la massima velocità Non immediatamente se noi lo teniamo attivato perché dovrà essere progressivo in base a quello che è la forza che noi mettiamo nel andare appunto a premere il tasto stesso Avendolo invece impostato su no quando noi schiacciamo R1 o R2 il giocatore partirà subito alla massima potenza Quindi noi che cosa facciamo per poter fare questo speed boost? Come potete vedere vi ho messo anche il controller in alto lì a destra in maniera tale da poter vedere quello che vado a fare Molto semplicemente ragazzi avendo la palla tra i piedi Quindi rallentando perché sto controllando semplicemente con l'analogico Vado all'improvviso a schiacciare il tasto della corsa E vedete come il giocatore performerà questo speed boost che però nel momento in cui vado a togliere il tasto dalla corsa si va a esaurire Quindi è molto comodo per poter magari saltare momentaneamente un avversario Poi se ne sta arrivando un altro tolgo subito il dito Anche qua vedete faccio lo speed boost poi mi fermo Faccio lo speed boost e poi mi fermo Questo qui è un po' un'evoluzione di quello che è lo speed boost che in passato si faceva con L1 Come potete vedere rallentavamo in questo modo e poi schiacciavamo il tasto della corsa Anche questo qui è valido tuttora però rispetto a questo qui invece facendo solo il tasto della corsa Noto che alle volte il giocatore tende a tenere la palla un po' sotto quanto ai piedi Però anche questo qui per poter accentuare ancora di più questo effetto di rallentamento e poi di scatto immediato Può tornare molto comodo per bruciare un avversario che non si aspetta il nostro boost Un altro metodo per poter speed boostare su FC24 è come l'anno scorso il doppio passo Una skill che è abbastanza semplice da eseguire se seguirete quelli che sono gli accorgimenti che vi vado appunto ad illustrare Innanzitutto tenete bene presente sullo schermo quello che è il pad che vi ho messo a punto per farvi capire bene i movimenti E poi come riferimento voi dovete iniziare a calcolare quella che è la direzione verso cui stiamo andando Quindi la direzione in cui guarda il giocatore In questo caso come potete vedere è ovviamente la destra Il nostro movimento inizierà con un tocco di analogico destro verso destra Deve essere tutto però molto rapido e concatenato Dopo aver fatto questo noi dobbiamo andare a proseguire il nostro movimento facendo una mezzaluna Che appunto da destra passa dietro alla spalla sinistra del giocatore e va a chiudersi alle sue spalle Quindi come possiamo vedere in questo caso giocatore che punta verso destra Movimento rapido appunto dell'analogico destro verso destra Mezzaluna che passa dietro la spalla sinistra del giocatore Quindi guardate qui che bella velocità che va a prendere il nostro Bappé con questo doppio passo Qui ovviamente questa è una skill che possiamo ripetere in tutte le direzioni Qui ad esempio faccio sinistra mezzaluna che si chiude dietro e vado comunque a prendere velocità uguale Un altro accorgimento che dovete tenere a mente è che se voi fate l'animazione del doppio passo così Senza aggiungere poi il tasto della corsa vedete che il movimento rimane fino a se stesso Non prendete effettivamente velocità Quindi voi per poter uscire con il doppio passo rapidi Una volta che state finendo l'animazione schiacciate anche il tasto della corsa Come vedete sempre dal pad per poter prendere effettivamente velocità Il doppio passo poi è anche molto utile per cambiare direzione ad esempio vedete Mentre in questo caso state facendo l'animazione invece di schiacciare il tasto della corsa Con la levetta sinistra cambiate direzione di orientamento del giocatore E potete tranquillamente fregare i vostri avversari anche in quest'altra manica Molto utile in fascia per poter prendere velocità Molto utile quando vi trovate ad esempio a ridosso dell'area di rigore Servite il vostro compagno, fate il doppio passo e puntate l'aria così Cercando di saltare in 1v1 il difensore che non se lo aspetta Chiaramente è anche molto 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 importante Quando ci ritroviamo ad esempio in una zona di campo come questa laterale Per tagliare rapidamente all'interno del campo e andare a prendere poi spazio per dare la palla al centro Un altro speed boost che possiamo trovare all'interno di FC24 Che però non eseguono tutti i giocatori è quello che si fa andando a schiacciare R1 ad ogni tocco di palla Questo trucco serve praticamente per attivare il playstyle del razzo ovvero del passo veloce Vedete qui con Bappé ogni volta che schiaccio R1 il giocatore da fermo avrà questa sorta di speed boost Dato proprio dal suo playstyle ovviamente meglio se dorato Per poterlo attivare più volte mentre siamo in corsa perché vedete che altrimenti si attiva la prima volta e poi mentre corro non si attiva più Per poterlo attivare più volte durante la corsa guardate io vado a schiacciare tutte le volte che voglio attivarlo R1 Vedete qui che il nostro Bappé in questo caso ogni volta che io schiaccio guardate il controller fa attivare il suo playstyle E ha questo speed boost mentre sta andando a scattare proprio dovuto al suo playstyle Ultimo metodo che vediamo per oggi è grazie ad una combinazione di tasti che è stata introdotta quest'anno Quindi dovete avere a mente con quale tasto voi fate il tiro a giro Quindi il tasto opposto alla corsa in realtà per cui se correte con R1 utilizzerete R2 Se correte con R2 utilizzerete R1 Cosa vi permette di fare questo speed boost? Che in realtà è molto semplice Andando a premere il tasto del tiro a giro e dando un colpetto di analogico destro nella direzione in cui volete andare Vi permetterà di poter cambiare repentinamente direzione e poi andando a schiacciare il tasto della corsa prendere velocità Quindi mettiamo caso che io con la Hansen vedete qui sto puntando verso la linea di fondo del campo senza dare il corpo alla porta avversaria E volessi cambiare subito direzione Quindi mentre sto camminando schiaccio R2 nel mio caso più un analogico destro con un colpetto verso sinistra E guardate qui che cosa farà cambierà direzione all'improvviso La stessa cosa la posso fare anche se sto puntando di qua poi giro verso sinistra e il giocatore punta più rapido Ovviamente verso destra quindi per tutte quante quelle che sono le porzioni di gioco E questo è molto comodo perché vedete il primo movimento che fa butta palla in avanti accelerando Però butta palla accelerando controllandola anche non è un lanciare la palla e dare la possibilità ai difensori di poterla recuperare Assolutamente no Guardate è utile anche proprio al ridosso dell'area di rigore per creare separazione e dare questa sensazione all'avversario di poter intervenire Ma in realtà poi magari ti vai a subire fallo perché si tratta di un movimento abbastanza ampio sul quale non è semplicissimo intervenire per i difensori Questa credo che l'abbiano introdotta appunto come vi dicevo quest'anno e al momento è uno speed boost che vedo un po' sottovalutato Perché non lo vedo utilizzare tantissimo mi assicuro che è veramente veramente forte L'ultimo speed boost che vediamo oggi è un po' il gemello di quello che è l'allungo palla che si fa Guardate sempre il controller schiacciando l'analogico nella direzione in cui stiamo andando e quindi in questo caso muovendolo verso destra Però cosa ci dà questo nuovo speed boost che vedremo a breve rispetto a quest'altro movimento ci dà maggiore controllo Quindi se noi stiamo correndo in questo caso magari verso destra Cosa andiamo a fare? Andiamo a schiacciare due volte il tasto dell'R1 mentre siamo in corsa Vedete come il nostro giocatore si va ad allungare la palla e questa roba qua si può fare ovviamente anche cambiando direzione E questo è molto comodo quando magari si vuole lasciare alle spalle un difensore che è più lento Perché chiaramente se andiamo a cambiare direzione e facciamo questo boost il giocatore nostro si metterà davanti con il fisico Lasciando l'avversario appunto senza la possibilità di poter intervenire Ragazzi per questo video è tutto io come al solito vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale Mi trovate live tutti i giorni sulla piattaforma viola da mattina fino a più o meno le 2 le 3 Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata Anzi a tornare al vostro Riberovski e a presto, ciao! Let's go!